amici di auto digest siamo a bordo della nuova dacia sandero non è più una love cost è la prima cosa che si deve dire perché al pianale della renault clio interni molto ben rifiniti ma il prezzo rimane sempre molto allettante come vedremo proviamo la versione col motore tre cilindri mille da 90 cavalli ma andiamo a vederla più da vicino e anche da vicino si vede subito non è una love cost guardate l'interno con gli inserti in stoffa in tessuto veramente ha un altro aspetto ricordiamo che c'è anche la 65 cavalli per i neopatentati sempre tre cilindri sentite il rombo molto particolare che sembra quasi è una metà di un sei cilindri però bisogna dire che la vettura è abbastanza brillante nella versione da 90 cavalli certo bisogna attirarla abbastanza il cambio è a sei marce l'agilità è notevole perché la vettura è lunga 4 metri e 09 però è larga 1 e 84 quindi l'abitabilità è davvero eccellente soprattutto per la categoria ricordiamo che questa vettura parte da 8.950 euro un prezzo pazzesco sembra una utilitaria usata mentre invece questa sia nuova e con la garanzia di una vettura nuova in autostrada la vettura è sempre una col pianale clio quindi non è più la dacia di una volta è stabile veloce potrebbe superare 170 all'ora diciamo che a 130 si viaggia veramente il surprise ma soprattutto il comfort acustico che in autostrada è buono diciamo ai livelli della concorrenza ben più costosa quindi bisogna valorizzare questo aspetto è una clio costruita un po' più economicamente la stabilità è eccellente e ci sono anche i sistemi di sicurezza come la frenata automatica e per le manovre in città la telecamera posteriore insomma è un'utilitaria col prezzo da low cost e qualità da utilitaria normale che fa viaggiare in assoluta sicurezza in autostrada consumando anche piuttosto poco perché andando a velocità da limite non consuma più di 7 8 litri per 100 chilometri e anche tirando si mantiene sempre sui 10 al massimo ricordiamo che c'è anche la versione gpl da 100 cavalli insomma un'auto completamente affidabile con tanto spazio anche nel bagagliaio e 5 posti che se si viaggia in 4 sono estremamente comodi anche soprattutto per lo spazio riservato ai sedili posteriori insomma abbiamo scoperto una dacia più matura e meno low cost che su strada normale mostra anche le sue ottime doti di tenuta di strada e un'ottima frenata e stabilità anche le sp interviene molto prontamente bisogna dire che certo su strada normale se si tirano le marce il motore si sente ecco il tre cilindri si fa sentire anche nella versione cvt automatica che per ora è disponibile solo sulla step way che è la versione più alta un po fuori strada anche più chicosa ed elegante ma ci auguriamo che questo cambio automatico arrivi anche sulla street way la città è meno costosa perché si guida molto più piacevolmente decisamente diremo insomma se prendiamo anche la più costosa costa 13.600 euro con tutti gli optional sempre una decina di migliaia di euro in meno delle concorrenti costi di simili caratteristiche